Hai mai pensato di passare al digitale anche per la gestione dei libri sociali nella tua azienda? Oggi puoi farlo facilmente. Con un costo minimo hai un'ampia serie di vantaggi e comodità. La minimazione la fai tu. Non ti devi muovere, cercare parcheggi, aspettare in coda per il servizio allo sportello. Semplicemente non usi più carta e non ti sposti in auto da un luogo all'altro. Niente più armadi o scaffali per conservare i libri sociali. Un semplice passaggio e i costi che avevi diventano risparmi di tempo, carta e spazio. E tu puoi concentrarti sulla tua impresa. Passa alla minimazione digitale. Entra nel futuro e alleggerisci il tuo presente.